Marco Marocco, 312 comuni riuniti qui oggi alla reggia della Venaria insieme alla città metropolitana di Torino e a quella che fu la provincia di Torino. Quanta strada in questi anni per aiutare i comuni? Oggi giornata importante di ricordi, di conferme e di quello che è stato il nostro ente all'interno di questo sistema Piemonte. Il sistema Piemonte che si è difeso in questi anni nonostante le difficoltà, la città metropolitana e prima ancora la provincia di Torino ha fatto un gran lavoro, continuerà a farlo. Bisogna dare forza agli enti locali, bisogna dare forza non soltanto ai comuni ma anche alla città metropolitana perché questo sistema sta in piedi grazie alla collaborazione di tutti gli enti.